Per Sanni, Tequila, Thea, Romeo e Nathan, sicuramente non è stata una giornata da cani. A loro, i cinque eroi a quattro zampe della scuola di salvataggio Tirreno, la provincia di Roma ha consegnato la targa di alta riconoscenza, conferita a chi opera per il bene della collettività. Quest'estate, infatti, assieme ad altre 35 unità cinofile e ai loro padroni conduttori, i cinque Labrador sono stati protagonisti del progetto Mare Sicuro, presidiando le spiagge della provincia di Roma per la tutela dei bagnanti. Un progetto che spiega l'assessore al turismo Patrizia Prestipino, sarà sicuramente riconfermato per il prossimo anno ed esteso anche ad altre spiagge. Progetto Mare Sicuro che ha reso sicure le nostre spiagge, i nostri turisti, i nostri bagnanti quest'anno sul litorale della provincia di Roma, spiagge libere, questi cani quest'anno sono diventati famosi perché hanno salvato quattro bambine e un giovane romeno. Ecco, queste sono le cose che riempiono di orgoglio di un'istituzione che sa di aver fatto il suo dovere perché ha garantito la sicurezza e il mare sicuro alle sue comunità. Quindi siamo particolarmente orgogliosi oggi di averle premiati loro e i loro conduttori questa straordinaria associazione.